Sono 21.000 metri quadrati e sono stati restituiti alla città. Ecco i nuovi giardini del Molo Siglio in via Acton, liberati dal cantiere dopo un anno e mezzo. Il progetto è quello di creare un'unica passeggiata dal porto al Molo Beverello, incluso il Molo San Vincenzo. Eliminate carcasse di auto e baraccopoli, riqualificate laiuole, controllati 250 alberi, cambiata la pubblica illuminazione e gli arredi, oltre al recupero della visuale sul porticciolo del Molo Siglio, ottenuta accentuando il percorso pedonale protetto verso il Molo Beverello. Le stradine interne sono state rivestite con cromo fibra ed un'area di circa 500 metri quadrati è stata riservata ai cani. Il Circolo Canottieri e la Lega Navale hanno adottato il lato mare, le imprese che hanno eseguito i lavori garantiranno la manutenzione ai giardini e l'area per i cani è stata affidata all'associazione Progetto Cane Cittadino. Consegnare alla città un altro pezzo che era stato dimenticato, ovviamente voglio ringraziare tutti, dall'assessorato, gli uffici, l'impresa, tutti quelli che hanno lavorato perché c'è un grande lavoro di squadra. Con poche risorse stiamo sistemando la città, è veramente uno spazio enorme che lega Palazzo Reale al mare, un posto dove trascorrere del tempo libero, quindi sono molto molto soddisfatto.